Mezzo secolo fa Bob Neal descriveva la macchina infernale su Paul Beerers Review, un computer per trovare l'anima gemella. L'hardware era composto da otto carte. Il software invece era un algoritmo molto semplice. Nel corso di questo video ti insegnerò a costruirne una. Come Tinder o Mythic, il meccanismo si basa su un questionario. Tre semplici domande. La prima riguarda il sesso. Cerchi un maschio o una femmina? Nel frattempo io porto avanti la prima carta, indietro la seconda, avanti la terza e così via. È il momento di comunicare al computer la risposta. Se cerchi un maschio, porta sopra le carte in avanti, altrimenti portale sotto. Supponiamo che tu mi risponda maschio. Porto sopra queste carte. In questo modo il computer memorizza la risposta. La procedura si ripete identica per le successive due domande. Preferisci una persona bruna o bionda? Se la cerchi bruna, porta sopra il mazzetto in avanti. Se la cerchi bionda, sotto. Supponiamo che tu mi risponda biondo. Porto sotto queste carte. Ultima domanda. La preferisci con la barba o senza? Se la vuoi con la barba, porta le carte sopra. Senza barba, sotto. Supponiamo che tu mi risponda senza barba. Porto quindi le carte sotto. Ricapitolando, abbiamo detto al computer che cerchiamo un maschio biondo senza barba. Capovolgendo la prima carta, eccolo! Il computer ha trovato la nostra anima gemella. Il gioco è completamente automatico e funziona disponendo le carte in quest'ordine. La logica di questa sequenza è semplice. Le prime quattro persone hanno la barba, le altre quattro non ce l'hanno. Se dividiamo le otto carte in due mazzetti, le prime due sono brune, le altre bionde. Ultima regola. I maschi sono tutti in posizione dispari, le femmine tutte in posizione pari. Realizza un set di carte come questo e prova. Vedrai che la macchina è infallibile. Se hai difficoltà a usare carte che presentano donne con la barba, ci sono due possibilità. Forse devi aggiornare il tuo sistema operativo mentale, che è fermo a Windows 1970. Oppure sei una TERF come J.K. Rowling e non riesci ad accettare che esistano donne con la barba e uomini con la vagina. In questo caso prendi contatto con un'associazione LGBTQ+, e citofona alla lettera T di Transgender. Nella versione del 70 di Bob Neill non troverai donne con la barba, ma donne e uomini tristi. Tristi per l'ovvio motivo di vivere in un'epoca incapace di riconoscere le soggettività trans. Ma perché chiamarla la macchina infernale? Perché sabotandolo con un attacco hacker, questo computer impazzisce. Oggi l'unico modo per sfuggire alle profilazioni sui social network è di cliccare link completamente a caso. Così facendo confondiamo l'algoritmo perché fingiamo interesse verso la foca monaca, le terme dello Yemen e le rivolte dei cosacchi. Ecco come confondere la macchina introducendo la casualità. Taglia il mazzo in un punto qualsiasi e distribuisci le carte in due mazzetti. Scegline uno a caso e capovolgilo. Hai estratto casualmente una femmina. Passa al mazzetto rimanente. Taglialo di nuovo in un punto qualsiasi e distribuisci le carte in due mazzetti. Scegline uno a caso e capovolgilo. La persona ha i capelli biondi. L'ultima distribuzione è la più semplice. Scegli una delle due carte e capovolgila. E una persona senza barba. Tirando a sorte le tre caratteristiche abbiamo ottenuto una femmina, bionda e senza barba. Così facendo abbiamo fatto impazzire la macchina che infatti come anima gemella ci propone esattamente il contrario. Un maschio bruno con la barba. Insomma, in anticipo di mezzo secolo Bob Neill aveva intuito che la resistenza alle macchine è possibile. Basta introdurre un po' di caos nel sistema. Cosa manca a questa macchina? Le identità non binarie naturalmente. Insomma, è tempo di progettare macchine infernali sempre più inclusive e potenti. A cos'altro dovrebbero servire queste lezioni? Ma ovviamente a scatenare l'inferno.